oh oh no ho dobbiamo prendere l'occhiare Oh no ho tirato via il naso a buttare юсь non ti vedo dove sei dove sei brillantino dove sei io oggi ti avevo detto ci vediamo stasera e ci abbiamo visto ma voi no che volete fare citami a me si manate la categoria voi ancora ancora non vi vedo dove state avete sprofondato proprio malamente caro culo astretto tu non ne hai tirato non ti rimbotto e pulito ancora parlare un'ala hai stato in mano non ce n'è non ce n'è siete dei falliti siete falliti ma voi capite stasera è come una palestra vinciuta e voi non avete gioco ma vengono più 15 mamma mamma ma farà proprio gel ma sacco che stanno cercando per Genova lì rindo la porta ti prende una sbutucata e si chiude sotto in coppa con la parcatella vado persa proprio è stato nuotando per venire arriva ma ora ti affanate la piscatella vai 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 oh 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 chi è un bello polo io voi oh oh questo è un bello polo bello verace è un bel verace è un bel verace è più 15 o adesso o ma il più che pensate voi che pensate volete ancora competere con il Napoli volete ancora competere con il Napoli ma che volete competere voi siete una squadra di serie B ma siete serie B voi non c'è sempre tornato a tirare un'utile in bordo quasi quasi si può dire è quasi una normalità eh che voglio voglio perché stai facendo pure la festa però la festa è completa ti faccio rito sai fatti cosa stasera io c'è prima stasera faccio un bello biglietto capito tutti gli interisti una sangana che si sbatteva sana sana non so una sangana il lato è un colpo là che si è ammocchiato il lato è pure la capa di un caccio là mi sono giusto affiscato ci prendi una bella occhiata bello purpa verace una bella favosa una bella favusella per la mia felicità mamma rogarmela mi mamma rogarmela mi qui se no quando ci rimo ci sono camminato a più 30 o chiuderemo a più 30 secondo me o no? che tanto voi cioè non siamo in una categoria siamo in una categoria siamo in un'altra categoria non te lo faccio e dici siamo in un'altra categoria adesso ancora non sto brillantino e vuoi che è bello là ma che dici ci manca i uvi ci manca l'interno ci manca i uomini ci manca questo ci manca che ci manca non ci manca nessuno ci manca solo che la capolista se ne va la capolista se ne va la capolista se ne va e se ne va la capolista se ne va ci manca i uomini ci manca i uomini ci manca i uomini ci manca i uomini mi raccomando mi raccomando mi esce le pescature con il rezzo poi si può nombrare tra i uomini con i uomini con i uomini con i uomini con i pesci di cane a niente è tutto la roma sull'interno che è rimasta e ci vediamo è stato un bello piacere stasera ne capite? io volevo fare più 13 fatto meno 15 una per la gara e vi sprofondate ciao